Compatibile con la descrizione che avevamo diramato della vettura utilizzata dall'innagato per allontanarsi. Ha quindi allertato la nostra centrale operativa. Sul posto sono state inviate due cartuglie perché la macchina, tra l'altro, aveva i vetri oscurati, quindi non si riusciva a capire se all'interno vi fosse la presenza di qualcuno. In realtà, quando gli uomini militari hanno controllato la macchina, è risultata chiusa, apparentemente vuota, poi ovviamente è stata aperta per essere meglio ispezionata, ma è stata appunto trovata vuota, controllando i dintorni, in particolar modo a 5-5 km su quel terrapieno, sotto alcuni alberi è stato trovato il corpo senza vita dell'innagato. Quindi è presso per dire a quando risale la morte? Assolutamente sì, adesso questa è la risposta con le indagini scientifiche e gli accertamenti anatomotologici. Noi, accanto al corpo, abbiamo trovato una pistola che è compatibile con quella utilizzata per l'omicidio di due giorni fa. Anche in questo caso saranno gli accertamenti balistici ad avere l'ultima parola e a confermare che la pistola sia la stessa. Allora, le ricerche sono andate avanti in maniera interrotta dal momento in cui sono successi i fatti. La ricostruzione di che cosa sia avvenuto in queste ore è resa difficile dal fatto che, come vedete, la zona che è stata percorsa è una zona isolata ed è priva di sistemi automatici di lettura targhe o di controllo della circolazione. Quindi, essendoci state segnalazioni, che peraltro essendo a circa 30 di ombri, dato che sono successi i fatti, ora avanzare ipotesi su che cosa sia stato fatto durante il tempo, l'intercorso dagli eventi, al ritrovamento di questa mattina è azzardato. La dinamica dell'omicidio è quella che è già ampiamente emersa. Purtroppo questa donna è stata intesa, illustrata nei pressi della propria abitazione e colpita con la moneta. Non risultavano denunce proposte dalla vittima per episodi di violenza o di maltrattamento. Ovviamente le indagini adesso continuano anche per cercare di far emergere se vi siano state condotte di questo genere che non sono state rese note alle forze dell'ordine prima.